Da Synergy è arrivato il nuovo volantino, promozioni imperdibili con prezzi straordinari su tv, smartphone, notebook, lavatrici, condizionatori, insomma centinaia di prodotti a prezzi super. E non dimenticare la competente e gratuita consulenza di Synergy. Synergy, il vantaggio di averci accanto. E sai cosa comperi. Affrettatevi, l'offerta è valida dal 14 al 22 luglio. Synergy di Sergio Salonia, in via Fontana 78 ad Avola, telefono 0931 83 12 10.